Nella seconda metà dell'Ottocento alcuni filosofi francesi assunsero contro il trionfante positivismo la difesa dello spiritualismo. Ciò avvenne con una certa vedutezza epistemologica e senza rifiutare un confronto per quanto critico con le scienze positive. Fra i primi a por mano ad una filosofia spiritualistica vi fu Charles Renuvier 1815-1903. Egli identificava l'immagine meccanicistica del mondo con una sorta di cattiva metafisica e nei saggi di critica generale pubblicati a partire dal 1854 Renuvier si richiama a Kant ed intende rigettare lo scetticismo sostituendolo con un relativismo fenomenista aperto alle istanze di libertà dello spirito. Per costruire una nuova teoria dello spirito occorreva per Renuvier demolire tanto il determinismo oggettivistico del meccanicismo quanto quello soggettivistico dell'idealismo. Entrambi, in quanto frutto di metafisiche impersonali e necessitanti, avevano come esito la distruzione dell'entità individuale e della libertà soggettiva. La proposta di contrapporre all'oggettivismo positivistico un neocriticismo che rivendicasse l'apporto categoriale del soggetto al processo conoscitivo trova il suo compimento nelle opere Nuova monadologia del 1899 e Personalismo del 1903. Il nuovo soggetto di Renuvier, La persona, ma però inteso sia sul piano gnoseologico che su quello etico-esistenziale in senso anche pascaliano, cioè come precario e contingente, ma proprio per questo più libero e più creativo. Félix Ravaison, 1813-1900, contribuì assieme a Renuvier alla costruzione del clima spiritualistico. Di formazione biraniana e contrario all'eclettismo, che dominò la scena filosofica francese degli anni 30 dell'Ottocento, egli presenta già nello studio l'abitudine, 1839, quello che sarà un leitmotiv della filosofia spiritualistica, e cioè il rapporto fra libertà e necessità. L'abitudine è infatti il termine medio fra meccanismo e libera volontà, tra causa efficiente e finalità. L'abitudine è un'attività inizialmente libera che poco a poco si adagia nella ripetizione e nell'automatismo, ed in questo spostarsi tra i due limiti della libertà e del meccanismo, essa diventa testimone della continuità fra spirito e natura. Sempre l'abitudine fonda la vita morale come sforzo che diventa poco a poco piacere, sacrificio, rivelazione di Dio. Nel saggio sulla Metafisica di Aristotele, del 1843, Ravaison conferma queste tesi e ravvisa nel pensiero di Aristotele la fondazione storica dello spiritualismo, ed una sua attualità tale da poter spazzare via le filosofie volgari del meccanicismo legate solo all'esperienza esteriore, gli dice, laddove invece l'esperienza interiore ad essere veramente significativa. Su questa base egli auspica, nel rapporto sulla filosofia in Francia nel XIX secolo, la nascita di un positivismo spiritualista. Un discepolo di Ravaison, Jules Lachlier, 1834-1918, fu un importante protagonista della filosofia accademica francese di fine ottocento ed insegnò alla scuola normale. Egli ribadiva che la vera filosofia della natura è un realismo spiritualista, agli occhi del quale ogni essere è una forza e ogni forza ha un pensiero che tende alla coscienza più completa di se stessa. L'attacco sulla scia di Lachlier ad uno dei concetti base del positivismo, ossia il principio di necessità, e l'esaltazione del principio opposto della contingenza, faranno di Émile Boutreau il primo grande scardinatore delle dottrine del positivismo e il più valido assertore di una ripresa metafisica che salvaguardasse i più alti valori della vita nel pieno rispetto dei diritti della regione. Boutreau nacque vicino Parigi nel 1845. Studente alla scuola normale, seguì con grande interesse i corsi di Lachlier e aderì all'indirizzo spiritualistico. Nel 1874 conseguì la libera docenza con la tesi sulla contingenza delle leggi naturali, che è anche la sua principale opera teorica. Dopo un periodo di insegnamento alla scuola normale, passò poi alla Sorbona e nel 1895 pubblicò l'idea di legge naturale, in cui sviluppò e precisò le questioni affrontate nella tesi di dottorato. Nel 1908 è scienza e religione nella filosofia contemporanea, in cui la fine analisi dei temi scientifici si coniuga efficacemente con l'ispirazione religiosa di Boutreau, allora esponente fra i più impegnati della cultura cattolica. La nomina ad accademico di Francia nel 1914 giunse in concomitanza con lo scoppio del primo conflitto mondiale, durante il quale Boutreau si impegnò in una battaglia culturale patriottica contro quella cultura tedesca da lui così amata in gioventù ed ora ritenuta la vera fonte del militarismo aggressivo del Secondo Reich. Boutreau morì a Parigi nel 1921. Con Boutreau il riduzionismo meccanicistico viene ribaltato in contingentismo radicale, ossia in un'immagine del mondo stratificata e da complessità crescente. Per Boutreau sia il soggetto che gli oggetti sono intessuti di regolarità e diversità. Liberati dalla camicia di forza del determinismo, essi riemergeranno nella loro necessità ma anche libertà e contingenza. La tesi del determinismo universale non appare, e li scrive, se non come una verità incompleta e relativa, quando si cerchi di rappresentare la concatenazione universale, la penetrazione reciproca del cambiamento e della permanenza che costituisce la vita e l'esistenza reale. E poi, aggiunge Boutreau, il progresso delle scienze non ci mostra forse che questi stessi principi generali non sono immuni da cambiamento? Il principio dunque è il cambiamento, la permanenza non è che un risultato. Una nuova razionalità emerge così sulle ceneri del meccanicismo e del determinismo. Ordine e disordine convivono e la storia del loro intreccio produce determinazioni sempre diverse e stratificazioni ontologiche successive, con sempre maggiore organizzazione interna ma anche individualità. L'organizzazione è individualizzazione, scrive Boutreau. Sono tutti temi che verranno ripresi ed amplificati da uno dei migliori allievi di Boutreau alla scuola normale, e cioè Henri Bergson. Per Boutreau soltanto il supremo principio, valido in pura sede logica, e cioè il principio di identità, ha carattere di necessità, A uguale A. Ma fuori dalla sfera logica, sul terreno concreto dell'esperienza, vige assolutamente la contingenza. I sistemi fisico-chimici non risultano sottomessi integralmente alla fatalità deterministica e presentano già sotto forma collettiva qualche grado di contingenza. Ciò avviene perché i sistemi che essi costituiscono sono già, scrive Boutreau, in certa misura dei mondi distinti. Negli organismi viventi questa coordinazione fra eterogeneità e ordine gerarchico viene perfezionata e sviluppata. Nella vita psichica, infine, la necessità si suddivide, e li scrive, in un certo modo in una moltitudine di leggi distinte, di cui ciascuna è propria a ciascun individuo. Anzi, questo primato dell'individualità comporta un'ulteriore moltiplicazione dei nessi causali, che si diversificano nell'individuo stesso, per ogni fase attraversata dalla vita psicologica. Allora, più si ascende nella gerarchia della realtà, più si avverte l'azione di un principio di vera e propria creatività. L'identità qualitativa esistenziale fra causa ed effetto è quanto vorrebbe introdurre il determinismo scientifico. Ma ciò è concretamente impossibile, poiché, scrive Boutreau, l'universo non si compone di elementi uguali tra loro, suscettibili di trasformarsi gli uni negli altri, come quantità algebriche. Sul piano concreto, nell'effetto, emerge sempre un quid di nuovo che lo distingue dalla causa. La permanenza qualitativa, che è il fulcro del meccanicismo, non si trova, dice Boutreau, che è nell'oggetto puramente ideale di una scienza del tutto astratta. Del resto, se compiamo il cammino inverso e ridiscendiamo, ad esempio, dalle forze superiori della realtà a quelle inferiori, non potremo mai ricomporre con queste le forme più alte. Disponendo degli elementi chimici costitutivi di un organismo, noi non riusciremo, ad esempio, mai a ricomporre l'unità vitale di quell'organismo. L'opera L'idea di legge naturale rinsalda la critica al determinismo. Il compromesso fra necessità e contingenza, tentato dalla scienza, precisa qui Boutreau, crea soltanto dei simboli, che traducono in rapporti quantitativi rapporti di carattere qualitativo ed esistenziale. Una certa consonanza ai temi del convenzionalismo e del pragmatismo è perciò presente nell'analisi epistemologica di Boutreau, il quale scrive, quelle che noi chiamiamo leggi di natura sono l'insieme di metodi ritrovati da noi per adattare le cose alla nostra intelligenza e per spiegarle al compimento della nostra volontà. Ma conciò Boutreau vuole solo richiamare l'uomo all'esercizio della sua libertà e non intende subordinare la verità conoscitiva a criteri utilitaristici. Aggiunge infatti, prima l'uomo vedeva dappertutto solo capriccio d'arbitrio, la scienza moderna gli fece vedere dovunque la legge ed egli credette di vedere la sua libertà dissolversi nel determinismo universale, ma una cognizione esatta gli rende il possesso di sé medesimo e nello stesso tempo gli mostra che la sua libertà può essere capace di dirigere i fenomeni. In scienza e religione Boutreau sostiene un ideale umanistico e spiritualistico che lo porta ad affermare l'autonomia reciproca della sfera conoscitiva e di quella religiosa, ma anche la necessità di una loro correlazione. Come la scienza non deve inaridirsi nella esaltazione della propria simbolicità, dimenticando il sostrato di concretezza e pluralità su cui essa si appoggia, così la religione non deve esaurirsi nell'esercizio dei riti e nella formulazione di dogmi. Al di sotto dei formalismi scientifici e religiosi vi è la ricchezza dell'esperienza umana che nel suo continuo svolgimento trascende gli strumenti utilizzati per fissare momentaneamente le proprie acquisizioni. D'altra parte, un'analisi della vita umana ci conduce alla consapevolezza dell'esistenza di una sfera di valori che oltrepassano l'imparzialità scientifica.